Siamo a Piazza Prefettura Catanzaro il 23 gennaio 2016 e in 100 piazze italiane come anche in questa c'è questa manifestazione che si chiama Sveglia d'Italia per promuovere l'equiparazione giuridica delle persone formate da coppie dello stesso sesso e dinanzi alla legge come il DDL Cirinna in questo momento alla Camera. Cosa ne pensi tu da CGL? La CGL intanto è tra le protagoniste di questa iniziativa, il sindacato italiano pensa che sia l'ora per l'Italia di far suonare questa benedetta sveglia soprattutto quando si tratta della libertà delle persone di esercitare dei diritti sociali e dei diritti che appartengono appunto alla persona stessa ed è ancora impensabile che si discuta in questo Paese nei termini in cui si sta discutendo rispetto ad una mediazione che la politica ha comunque raggiunto e un passo avanti che ha fatto rispetto all'unione dei fatti di smontare e di tornare indietro. Una delle prime promesse di questo governo era che sulle unioni civili avrebbe dato una risposta che non chiede tanto la politica ma che chiede il Paese. Siamo un Paese che ha maturato l'idea appunto che non è possibile che il destino delle persone sia in mano semplicemente ad una maggioranza che si ritiene appunto l'unica privilegiata nel poter esercitare alcuni diritti. I diritti valgono per tutti, i diritti sono appunto delle cose che vanno rispettate soprattutto per chi è più debole e per chi non li avrebbe quei diritti e noi chiediamo che vengano applicati, chiediamo che il DTL Cirinna venga approvato alla Camera e nei passaggi parlamentari perché è ora appunto di svegliarsi su questo tema. Mi fa piacere ricordare solo una cosa prima di chiudere che comunque la CGL Catanzaro-Lamezia ha l'osservatorio sulle politiche di genere e discriminazioni come ci sono altre, come anche diciamo in Italia ma soprattutto che esiste questo strumento qui a Catanzaro-Lamezia quindi chi ne avesse bisogno può rivolgersi alla CGL di Catanzaro-Lamezia per farvi ricorso. Sì assolutamente, anche perché noi dal nostro punto di vista e dal nostro osservatorio diciamo che quando c'è una discriminazione nella società quella discriminazione entra anche nei posti di lavoro ed entra appunto nella realizzazione di quella che è la propria persona dal punto di vista sociale dentro i luoghi di lavoro e quella discriminazione appunto colpisce anche contrattualmente quei lavoratori e noi non possiamo tollerarlo perché abbiamo l'idea che appunto i diritti sono universali la CGL sta lanciando una carta dei diritti universali per tutti i lavoratori e in quel tracciato ci muoviamo appunto. Perfetto, grazie Giuseppe Valentino, buona manifestazione. Grazie a voi, ciao buon lavoro. Grazie a voi.